ok ciao siamo adesso che siamo nella prima settimana di giugno io ho fatto qualche acquisto e c'è un po di roba e ho fatto anche qualche qualche recupero vecchio e i miei primi i miei primi tre ho preso i primi tre numeri di neon questo è l'uno col secondo che questo è questo che è il terzo poi quelli che ho preso ancora che sono riuscito grazie a me la mia fometria ho preso i primi due di ken il guerriero versione genesis i primi due questo che è l'uno e il due poi sono riuscito anche a recuperare quelli che sono riusciti fino adesso di i primi i primi quattro di gas adora questo è il numero uno il 2 3 è il numero 4 così con tutti questi ma manga adesso c'ho anche un po un po che adesso che c'ho un po di tempo libero riesco a leggerli dopo ho preso i primi cinque sempre di mao che mi penso che è bello che è bello come manca questo qua i primi cinque l'uno il due il tre il quattro e cinque dopo sono riuscito anche a recuperare l'ultimo l'ultimo che è uscito da poco e l'altra prima sono riuscito anche a prendere quello appena riuscito il cofranetto da due di shaman king l'uno e il due assieme e anche se avevo preso i primi due ho preso sempre separati i primi sei numeri sempre di shaman king l'uno che è questo 2 3 un attimo questo qua cade la pigna il 3 che è questo 4 5 e 6 dopo ho recuperato anche i tre numeri che mi mancavano di a cano canna dei 7 misteri dell'accademia camone il numero 6 7 e 8 questo il 6 7 e numero 8 dopo ho preso anche il per ultimo ho preso il quarto di spy family che forse adesso hanno smesso di fare le variante per ogni numero e basta per adesso sono riuscito a recuperare solamente questi e magari ci vediamo magari più avanti per qualche altro video va bene grazie ciao